La collezione è stata l'ispirazione dell'anno 80, durante gli anni che era pieno di passione, di fashion, di colori freschi, forte, leggero, individuale, felice. È un insieme di vari materiali, partendo dalla felpa, dal saltoriale, e molto mischiare materiali eleganti e materiali molto sport. Per la creatività italiana, che inizia ad esserci anche interesse per tutti i giovani talenti che ci sono in Italia, che sono tanti. L'ispirazione è in Miami, perché mi ha dato l'opportunità di lavorare con il mio design, le palmi, le pezzi, le pezzi, questi tipi di colori, come Miami, che mi ha potuto creare questa collezione. Questa è la fine della moda urlata, di un certo tipo di contemporary fashion che ha caratterizzato gli ultimi anni, in favore di una cosa più chic, più glamour, sulla quale invito a riflettere. Ciao!